Amici 3B Meteo, benvenuti a questa nuova edizione del TG di 3B. Partiamo come sempre dall'immagine del satellite che ci mostra in Italia sostanzialmente senza nuvole. Però guardate, sul versante tirrenico, specie nelle prime ore del giorno, oggi sarà così, anche tra domani e dopo, si formano foschie e nuvole basse per la presenza di molta umidità. In realtà poi col passare dell'ora e il sole asciuga questa umidità e la situazione torna a essere molto più luminosa, però inizio di giornata sul versante tirrenico che alle volte, anche ripeto tra domani e dopo, sarà piuttosto grigio. Però nel complesso avremo un fine settimana all'insegna del bel tempo, ancora alta pressione, qualche disturbo si farà vedere domenica con l'arrivo di aria un pochettino più frizzantina, arriverà anche un po' di vento e qualche nuvola portata appunto a questo timido disturbo in questo campo di alta pressione. Quindi magari domenica un po' più variabile, ma nulla di eccezionale. Poi settimana prossima ancora alta pressione, quindi per diversi giorni insomma possiamo stare tranquilli. Un'occhiata ora soprattutto alle temperature, perché davvero stiamo raggiungendo punte molto miti per il periodo venerdì e sabato, punte massime, fino anche a 20 gradi, localmente anche qualcosa in più e se poi ci piazziamo al sole sulla pelle e quei 20 gradi li sentiamo e come. La giornata di domenica vi dicevo vedrà l'arrivo di un pochino di vento, aria un po' più frizzantina, quindi temperatura in leggera diminuzione, ma nel complesso si sarà sempre abbastanza bene. Per sapere comunque nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.